Lanciamo un appello ai medici dipendenti in formazione e ai cittadini perché rispondano in massa alla consultazione europea online sulla direttiva sull'orario di lavoro affinché si continuino a riconoscere a pieno titolo anche i periodi di turni di notte nei quali non vengono effettuate prestazioni sanitarie. È l'invito del segretario nazionale della FPCGL Medici Massimo Cozza. Un tema caldo per l'Italia visto che in merito all'orario di lavoro dei medici la Commissione UE ha già deferito il nostro paese alla Corte di Giustizia europea.